Per la fine del mondo, che menù ordinerebbe? Io orecchiette alle cime di rap. No, la variante è orecchiette con ragù di carne e di cavallo. Qual è l'iniziativa politica più importante che lei ha realizzato? Beh, quando contro il precariato sulla spiaggia di Ostuni, organizzato la lettura di Montale mentre dei Pierrot piangevano alla luna e a chiudere un concerto degli Intillimani. Che palle, non è vero. Non si può. La cosa più bella della mia esperienza di governo è aver inaugurato Asilinido, che sono all'avanguardia, e aver fatto una legge contro i veleni delle industrie, e aver trasformato le spiagge in luoghi di lettura di libri. Senza Pierrot, però, senza Pierrot.